Il nucleo comunale volontari di protezione civile di Sala Consilina avrà presto la nuova sede. Lo rende noto il sindaco Francesco Cavallone, che ufficializza la concessione di due finanziamenti regionali per una somma complessiva di circa 865 mila euro, destinati allo scopo. Sul bollettino ufficiale della Regione Campania è stato infatti pubblicato il decreto dirigenziale numero 67 del 13 dicembre 2018, avente per oggetto il Fondo per la Prevenzione del Rischio Sismico. Il Comune Salese ha partecipato con successo al bando per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico. Oggetto dell'intervento saranno i due edifici presenti presso l'ex macello di Via Zero, in località San Giovanni, per i quali è previsto l'abbattimento e la ricostruzione. Un'altra nostra priorità nell'azione amministrativa era quella di mettere in sesto tutta quella zona dell'ex mattatoio in San Giovanni perché come sappiamo si tratta di una struttura datata che aveva bisogno di un intervento sicuramente manutentivo di ristrutturazione e siamo riusciti attraverso sempre la collaborazione del nostro ufficio tecnico ad ottenere due finanziamenti per entrambi gli edifici, quello più grande e quello più piccolo per complessivi circa 860 mila euro e che saranno destinati a sede della nostra protezione civile perché come benissimo a Sala hanno visto in questi giorni con le varie vicissitudini meteorologiche ma anche in altre circostanze la nostra sede della protezione civile si sta ampliando, potenziando e quindi credo che debba avere anche una struttura adeguata per il ricovero dei mezzi che dovranno entrare in funzione al momento opportuno. Quindi per noi è un motivo di grandissima soddisfazione, c'è anche una quota di compartecipazione del Comune in questo finanziamento, è segno di una salubrità del nostro Comune che riesce anche a cofinanziare determinati tipi di opere altrimenti ci sarebbero grosse difficoltà per il recupero di questi finanziamenti. Noi siamo soddisfatti di questo ulteriore finanziamento, credo che sia il frutto di una azione amministrativa oculata, intraprendente che riesce ad aggredire tutti gli investimenti e tutte le possibilità che ci sono per lo sviluppo di un territorio.